Durante il Covid avendo due aziende che funzionavano mi sono reso conto che da un momento all'altro i miei ingressi potevano essere tra virgolette nulli perché comunque molte aziende hanno chiuso, noi siamo stati comunque fortunati, abbiamo potuto lavorare ma ho capito che in caso di un altro famoso cigno nero come poteva essere quello del Covid avrei avuto dei problemi economici quindi non avrei saputo portare avanti la mia vita così ho capito che devo trovare una soluzione alternativa. La prima cosa che mi è venuta in mente anche consigliato dai ragazzi del BTG era quello di iniziare con le commodity in quanto è la parte del trading forse magari un attimino più semplice e più di facile approccio. Nella prima parte di operatività io ho fatto tipo in sei mesi circa il 35-36% di gain sulle operazioni fatte. Mi sono preso bene, ho visto che comunque le cose funzionavano e sono andato avanti, ho iniziato a fare Forex, ho iniziato a fare Cripto poi piano piano la situazione chiaramente del Covid evolveva e le cose diciamo miglioravano e da lì ho capito che in realtà potevo fare ancora di più. Mi sono ritrovato a riavere voglia di studiare, di rimettermi in gioco nonostante le aziende andassero comunque bene. Così mi sono lanciato, ho iniziato a fare operazioni immobiliari sia dal punto di vista delle aste che dal punto di vista del mercato libero. Ho già vinto un'asta e abbiamo acquistato insieme a un socio questo bilocale che in realtà è stato pagato talmente poco e abbiamo deciso di metterlo a rendita, quindi questa è una delle mie prime rendite automatiche. Ho fatto delle operazioni di flipping immobiliare nella zona di Monza dove mediamente il ROI era intorno al 35-38%. Sono diventato lifetime e da lì praticamente seguo costantemente tutti i corsi per tenermi aggiornato ma soprattutto perché mi danno la possibilità di avere ritmo. Quindi grazie ai corsi da BTG, grazie alle coaching, adesso io riesco a gestire molte attività. Prima ne gestivo solamente due, adesso riesco a gestire due attività, riesco a fare degli investimenti consapevolmente quindi sapendo che cosa sto facendo. Trovo il tempo per fare operazioni immobiliari, ho ritrovato il tempo per leggere che è una cosa che mi piace molto, quindi per studiare. Riesco a ritagliarmi del tempo per allenarmi che per me è una parte fondamentale della mia vita, è la mia valvola di sfogo. Ultimamente quello che realmente è stato veramente un'ulteriore svolta all'interno della mia vita sono state anche le coaching dirette con Alfio dove alla fine di una prima parte di percorso iniziato due anni fa quando non sapevo nulla di trading, non avevo fonti alternative, non sapevo cosa fossero gli immobili, non sapevo cosa fosse il flipping, non sapevo cosa fossero gli stralci. Ora mi trovo ad avere la possibilità perlomeno di avere diverse entrate e soprattutto la consapevolezza a livello di mindset di poter affrontare insomma qualsiasi sfida. Non sono più spaventato dall'intraprendere un nuovo percorso. Durante tutto questo percorso oltre alla parte tecnica e la parte proprio emozionale è la parte di mindset che è cambiata. Ho un approccio completamente diverso ai problemi, alle soluzioni. Sono riscoperto tra virgolette creativo, cosa che io pensavo di non essere assolutamente. Consiglio a tutti quelli che hanno almeno il dubbio di fare almeno una volta nella vita un wake up call. Almeno una volta, provare. E se hanno voglia di mettersi in gioco credo che già col wake up una persona si renda conto che perlomeno ci sono delle possibilità là fuori. E ci si può mettere in gioco, si può provare a vedere. Una volta che si fa questo io credo non si torni più indietro perché cambia completamente la prospettiva.